Il virus torna prepotentemente nella città di Castrovillari. Il sindaco Mimolo Polito dalla sua pagina Facebook comunica che ben 14 persone su 80 tamponi antigenici effettuati presso l'area mercatale sono risultate positive. Il contagio sarebbe partito da un compleanno e da un incontro di giovani domenica in una casa al mare. Pertanto il primo cittadino ha invitato tutti coloro che sono stati al compleanno e in gita al mare a restare in casa in isolamento fiduciario in attesa dell'attracciamento evitando anche i contatti con i propri familiari e informare il proprio medico curante oltre che prenotare per sabato un tampone antigenico.